Il dollaro americano. Tenterò di far diventare questo dollaro un pochettino più piccolo. Il dollaro diventa più piccolo, piccolo, il dollaro diventa più piccolo, e poi ancora un pochettino più piccolo, piccolo, e poi più grande, più grande, più grande, più grande, 50 euro, ancora. Tenterò di farli diventare più piccoli, piccoli, e poi 50 euro diventano ancora un pochettino più piccoli, piccoli, e poi più grandi, e poi più grandi, più grandi, e ritornano a essere il dollaro che erano prima, da euro in dollaro. Grazie. 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 Grazie.